Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Oh cazzo! Oh cazzo! Orco Dio! Porco di si rompeva! Io sapevo che si rompeva! Ha fatto un brutto incidente Ma tende a spostare l'auto che lo vedo sotto Aspetta aspetta Oh! Eh vabbè ho troppo violenza però Maia la testa tutt'ora Ok adesso controlliamo eh No cavolo stia fermo Cardi mi ricevi? Ah hai un piccolo m atomo qua Affermati o comunica No l'ho presa a noleggere per il collega Questa qua davanti Grazie zio veleno Grazie per 100 bit Veromale che non ti... Ah no ci sono l'auto verde che stai avendo Ma? Che dolore cazzo! Ma? Ma? Ma cosa è successo? No! Oh cazzo! Grazie per il bit Tu faccio rile educazione Capito? Un sporco bastardo Ma che ce l'ha? Ma perché mi picchia? Mi picchia? Ma perché mi picchia? Perché mi picchia il polizio? È lui che mi picchia non io Ma mi picchia! Ma che cosa fa? Fermo 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 Ma lei mi lascia picchiare Ma non ho capito Non si preoccupi Ogni tanto Scende il vento di Harry Potter È una cosa normale di città diciamo Ogni tanto viene Harry Potter a trovare qui a Roma Oddio Ma che cazzo è? Collega! Collega! Ah! Tutto regolare Ma che cazzo è successo? Non so cosa sia successo Ma dai Scende scende Ve la vedo io da qui Ma è necce 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 Aaaaaaaah Eeeeeeeeeeeeee Sì 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 è una rapina non si preoccupa Cosa fa? Alta le mani! Cosa fai? Allora per quanto riguarda la rapina civico 911 Eh scu... ma boh Eh... cazzo i colleghi sono volati Bene Ma io non l'ho urtato di prova scusami Le api mi hanno preso con loro Sei con le api? Affermativo me l'hanno detto il capitano Negativo torno in comando che formiamo un'auto in una stazione Affermativo Ti aspetta un attimo Perché? Mo saliamo a 40 aspetta Ma perché? Ecco ti è 40 mila euro di multa Ma perché? La prossima volta mi offendi di meno ha capito? Ma cosa c'entra? Ah cosa c'entra? Sì sì fai spiritoso Ma che c'è? Sì sì fai spiritoso Ma perché ti cazzo? Sì sì fai spiritoso Non ti cazzo Non ti cazzo Non andai alla città Ti preoccupa Ti faccio tanti chili in multa Che ti metterà a cagliare in ginocchia Capito no? Ti metterà a cagliare in ginocchia Ti faccio tanti chili in multa Tutta la storia di tuo servito Ti faccio tanti chili in ginocchia Capito? Un me merda Swork bastard E capite? Più è se merda E capito no? Ti faccio 40 mila euro di multa Ma ti faccio 80 mila Capito no? Ma con che c'entra? Chiamami una rauta Chiamami una rauta come chi mi ha chiamato Ne vai! Infermieri carabinieri svenuto in servizio Chi non dorme non prende pescino 123 sveglia 123 sveglia 123 sveglia 123 sveglia Sveglia Il crime non dorme mai 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 Già mai Come no? Eh no aspetti Che c'è? Chi è che devo ascoltare? Chi devo ascoltare? Ma chi è? Io cogliare dico Ah lei è proprio palla Gli invidiosi Sono un invidioso del maestro Sono entrato in live Sono un invidioso Oh 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 Già Arancio di coniglio fuori dal finestrino Scusi Vicebrigadiere Di che sta parlando? Come il coniglio? Eh Comandi In servizio siete andati in rosticceria a comprare la cena? No 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 Stavamo nella zona di caccia Purtroppo è capitato Stavo sparando dei soggetti E il coniglio è andato davanti Scusi ma quanto era alto questo coniglio? E' saltato Quanto dei salti Ma era un coniglio o una cavalletta? Scusi Non lo so però Ha fatto un salto Comunque Comandi E lei ha centrato il coniglio? Eh sì E passavo dalla traiettore del proiettile Io stavo puntando il soggetto da lontano Il coniglio E' andato davanti al proiettile Ha preso il proiettile Confermo 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 Sinistra o destra Sinistra o destra E vai Qua ormai è diventato Vado vado Vabbè porta Vado dove la porta il cuore Vado vado Eccolo Criminale si fermi Cazzo ragazzi Si fermi Ma mi scusi In che guaio mi son messo In che guaio mi son messo Lo vedo qua Lo vedo qua Forza di cielo Magica cazzotto primi Oh raggio Vado Dio Beppietto No 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 Eh Mi è stato intorno a tutto cosia Oh No No Porca Dio Allo fallo Turma 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 c'è un risotto con un'urgenza d'arma ma è scusato accedendo così guardi abbiamo un collega a terra non si sa che abbiamo un no non sta a terra non sta a terra non risponde più vabbè a Dico signor Goliart Dico ci serve una buona stare signor Goliart Dico eh fatina porco Dio porco Dio porco Dio porco Dio porco Dio porco Dio bandiera oddio mi dissocio mi dissocio mi dissocio Gennaro io ti direi vai in Jamaica diretto se lo fa vedere Google non direi che è legale mi piace il cazzo mi piace il cazzo ci fa vedere come fa la carbonara Carbunara Carbunara